Ah, coraggio! Andiamo a vedere dove è finita la palla! Straniero, i pilati sono alla porta! Aiutaci! Serve a trovare le cose fatte di metallo! Come i gioielli, le forchette, i cucchiai e gli attrezzi! Proviamo la bot! Ok! Più vicini saremo a un oggetto di metallo, più forte suonerà!